Mi fate una domanda agli uomini guardando la telecamera? Perché gli uomini tradiscono? Perché quando le cose tra di noi stanno diventando un pochino più serie e sparite, a caso? Magia! Perché ogni volta che passa una donna non fate altro che fischiare? Cosa pensate dell'amore? Perché vi sentite fighi a fare così tanto gli stronzi? Cosa è che li piace di più delle donne? Vi vorrei domandare perché siete così imbecilli? Perché vi incazzate se vi diciamo che non dovete avere amiche femmine? Vi dà fastidio se noi vi guardiamo tipo la c***o, però a noi ci guardate le tette e il culo sempre e non ho mai capito perché. Perché cambiate sempre discorso e non centrate mai il punto della conversation? Io devo star lì a capire, rompervi i coglioni, continuare sempre a insistere e farvi dire quella cosa che volevo sapere, cavolo. Perché? Perché lasciate le brave ragazze? Perché voi cercate le donne facili? Perché? Perché pensate soltanto con quello che avete in mezzo alle gambe? Perché i uomini sono così assolari? E i complimenti che fate alle ragazze sono sempre veritieri? Perché siete così stronzi? Perché ci dite di non preoccuparci dalle vostre amiche? Io vorrei capire perché ci stiamo invertendo i ruoli. Perché vi fate le sopracciglia? L'uomo deve cacciare l'antilope, non deve farsi la ceretta. Perché volete sempre quelle, le tipe stronze, le dolci scartate sempre, a prescindere? Perché? Perché guardo il culo alle altre. Avete mai avuto paura di qualche donna? Noi volevo chiedere perché siete tutti uguali? Cioè avete tutti la stessa testa di... Cazzo... Come mai esistete? Perché guardate i porno con le MILF? Perché non alzate la tavoletta del cesso? Perché vi rifate le sopracciglia? Perché non alzate la tavoletta del cesso? Ma voi uomini, lo siete o lo fate? Ma quando andate in giro con le donne, vi vergognate in genere? Perché non si lavora la casa? Ragazzi, ma come fate a non ti fare Juventus? Cioè non è possibile! Uomini, a cosa servite? Perché quando siete fidanzate con le ragazze comunque guardate lo stesso e quelli delle altre? Perché voi uomini state diventando donne e noi donne stiamo diventando uomini? Perché? Ma le donne vi piacciono ancora? Perché gli uomini non sanno più fare sesso? Perché vi fate le sopracciglia? Perché vi offendete se portiamo i preservativi in borsa? Cioè, tanto meglio! Che è lo primero che ti fichas in una mujer? Os gustan... Altas o bajas? Perché hanno riuscito a fare più di una cosa alla volta? Perché ci tenete più di voi all'aspetto fisico che noi? Perché tienen che llevar la contraria de todo? Perché quando andate a fare serata o comunque in piena serata dovete sbottonarvi ste camicie che sembrate di tamari allucinanti? Uomini... Forse è il caso donne... Sì esatto, donne, donne magari! Perché sono così gelose degli ex? Perché vi fate troppe menate? Perché a vent'anni diventate delle drama queen come le ragazze in epoca a 13-14 anni? Perché rimanete sempre mammoni? Uomini, perché avete smesso di corteggiarci? Per qual motivo? Metà degli uomini, anzi più della metà, non riescono a tenere una relazione seria per più di un mese Why are you so sexagolic? Why are you so obsessed about shop? Pensate veramente che comandiate voi? Perché vi facciamo paura? Perché vi depilate più di noi donne? Soprattutto le sopracciglia ragazzi, le sopracciglia imbarazzanti! Perché non riuscite a fare due cose contemporaneamente? Perché fate commenti oppure fischiate le ragazze quando si cammina per strada da sole? Perché siete convinti che le donne non ne capiscano niente di calcio? Perché scappate tutti dopo il primo appuntamento? Per la tipologia dei maschi con i risvoltini e i pantaloni Perché? Ma perché vi mettete la camicia nera? Perché siete così bivolari? Perché voi siete così stupidi? E soprattutto perché ci dite una cosa le donne e poi le fate puntualmente un'altra Perché voi ragazzi siete più pettegoli delle donne? Quando crescete? Perché i uomini sono così stupidi? Come mai voi uomini ci provate con tutte? Come fate ad essere così diretti? Ciao a tutti e seguite questa pagina Come si chiama? Non mi ricordo Bellissimo questo Ciao a tutti e seguite questa pagina Si chiama Kiko.com Sì perché c'è Kiko.com Perché c'è Kiko lì è? Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.